Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati, carissimi telespettatori di FanoTV, questo è il canale 17 sul quale tutte le mattine alle 7 e mezzo ci ritroviamo in diretta per leggere i giornali. Lo faremo anche tra un istante, dopo aver dato uno sguardo al calendario con il santo del giorno, San Giovanni d'Archetti, il sole è sorto alle 7 e 39 e tramonterà alle 16 e 35 e non prima di aver dato uno sguardo al tempo che a dire il vero ci mostra una situazione evolutiva praticamente paralizzata a dieci giorni fa. C'è un po' di sole, un po' di nuvole ma soprattutto c'è tanta nebbia, questa nebbia che speriamo se ne vada presto perché oltretutto rattrista proprio gli animi, la nebbia è brutta oltre che essere pericolosa per chi si trova in strada. Comunque la situazione è questa, la vedete da soli, il cielo oggi sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature lieve aumento, i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso, attenzione alle foschie e banchine di nebbia. Per oggi, domani, vigile di Natale e anche per il giorno, appunto il 25 di dicembre, il giorno di Natale, anche qui avremo forse un po' meno nebbia ma comunque più o meno siamo lì. Il tempo rimarrà stabile anche per il fine settimana e con alta probabilità anche per buona parte della settimana successiva. E adesso allora andiamo a leggere i quotidiani. Cominciamo dal messaggero, la pagina di Pesaro, feste senza l'incubo Equitalia, sospeso fino al 6 di gennaio l'invio delle cartelle esattoriali, interessati 3.000 pesaresi. Nella nostra provincia concesse quasi 20.000 rateizzazioni per un massimo di 6 anni. Questa è la notizia principale. Poi a centro pagina invece la fotografia degli studenti del Battisti di Fano che sono scesi anche ieri in piazza, in centinaia contro l'accorpamento, una manifestazione degli studenti, lo vedremo anche negli altri quotidiani e anche nel messaggero stesso. Poi resteranno solo 7 punti nascita tra cui Marche Nord e Urbino. Ceriscioli, il presidente della regione, va avanti nonostante la protesta dei sindaci e dei comitati. Poi la cronaca vedremo tra poco a fuoco scooter e danni all'autoscuola Bassani di Pesaro, la scuola che come più hanno ricordato ieri è la scuola dove Valentino Rossi, il campione del MotoGP, ha preso la patente di guida. Poi questa bella iniziativa nata all'interno di un carcere, all'indomani degli attentati di Parigi tra i corridoi del carcere di Pesaro, un giovane detenuto di fede islamica ha fatto un giro con una maglietta bianca, l'ha fatta firmare, sopra scritto siamo tutti contro Daesh che sarebbe l'Isis in sostanza, quindi contro lo Stato islamico, ha girato le varie sezioni del carcere chiedendo se gli altri detenuti volevano firmare questa maglietta. In tanti l'hanno fatto, anche di fede islamica e poi questa maglietta è stata appesa. Adesso si trova appesa all'interno del comune, qui vedete il presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Luca Bartolucci, che ha preso questa maglietta, l'ha appesa all'interno della sala del Consiglio. Bene, una bella iniziativa che almeno ci dà un po' di speranza. Poi sopra invece, sotto la testata del messaggero, una breve di calcio, vispesero shock, pazzaglia, l'allenatore cacciato dopo l'ultima cena. Si discute sul fatto che a Pesaro si festeggi, tra virgolette, organizzando una cena di Natale con giocatori, società, sponsor e quant'altro. Si discute sul fatto che sia stato comunicato all'allenatore l'esonero, in un momento un po' così delicato, prima di una cena. Di fatto si è trasformata questa cena in l'ultima cena, l'ultima cena di pazzaglia. Poi il basket, WL, WL entusiasmo alle stelle e voglia di battere Milano. Questa sera arriva la corazzata Armani e la febbre sale. Prevendita boom, sarà aperto anche il secondo anello. Andiamo all'interno del quotidiano romano. Si vota il bilancio, questa è la pagina delle Marche, si vota il bilancio in Regione, tra schermaglie e minacce di ricorsi. L'opposizione parla di delibere che non si leggono, fondi, parchi tagliati, verso un vertice. La biblioteca invece di Pesaro, chiusa fino alla Befana, il Comune si scusa, costretti dal bilancio, quindi dalla mancanza evidentemente di fondi, a sospendere il servizio al San Giovanni. Poi la pagina di Fano invece, eccola qui con Battisti, gli studenti in piazza, la Regione apre però al rinvio, ottimismo del consigliere Carroni sul rimandare la decisione finale. Lunedì la giunta marchigiana dovrà valutare il piano provinciale, mobilitazione di centinaia di ragazzi contro l'ipotesi di accorpamento dell'Istituto. Sulla pagina di Fano si parla anche della nuova centralina operativa già da ieri mattina per controllare la qualità dell'aria nella zona industriale di Bellocchi di Fano. La centralina di monitoraggio è stata installata a spese della Profiglas Industria dell'Alluminio. Sotto a centropagina invece oggi, grazie ai volontari, al CODMA di Rosciano di Fano si distribuiscono ai poveri oltre 150 quintali di frutta gratuita. Basterà recarsi oggi al box numero 5 del mercato ortofrutticolo dalle 9 del mattino alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Partito Democratico ieri ha parlato per bocca del suo segretario Marchegiani, ha fatto un bilancio di quello che è stato l'anno che si sta per chiudere. Fondi, quindi fondi economici e cantieri, il PD è ottimista, l'amministrazione sta spianando la strada di investimenti per circa 100 milioni. Consultilvest, comunque basket, questa sera in campo per aiutare il piccolo Federico, il bimbo malato di Fano che ha bisogno di aiuto. Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, che la famiglia ha lanciato un appello diversi mesi fa perché aveva bisogno, ha chiesto, di essere aiutata ad affrontare questa spesa per pagarsi il ciclo di cure che costa 30 mila euro, ecco perché stanno chiedendo aiuto a tutti. La VL si è mostrata disponibile, come si sono mostrati disponibili, dobbiamo dire la verità, tantissime associazioni, anche quelle che non fanno notizia o comunque non trovano spazio sui mezzi di informazione, ma sono tante davvero, chi a livello privato, chi a livello di associazioni che stanno aiutando il piccolo Federico. Quindi speriamo che dalla famiglia Mezzina arrivino presto buone notizie. Andiamo sull'altra pagina del messaggero di questa mattina, troverete in edicola, niente spiaggia per cani, ne vasca idromassaggio, il piano si ridimensiona, la sovrintendenza nega anche il polo creativo a Sottomonte, Pesaro, i bagnini chiedono un incontro urgente all'amministrazione. Poi il sindaco Ricci ha pensato di riprendere un triciclo vintage, quelli che si vedevano una volta anche a Fano, che avevano a disposizione gli spazzini, o comunque adesso si chiamano operatori ecologici, o poi ogni tanto cambiano nome, comunque un triciclo vintage per un centro storico pulito, eccolo qua. Non vorrei sbagliare, ma credo che non proprio così, ma ne ho visto uno anche a Fano, insomma, qualche tempo fa, quindi credo che a Fano invece ancora ci sia, poi non so se è vintage oppure no. Andiamo sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano apre con la mensa di San Paterniano, che sarà aperta sia a Natale che a Capodanno. Non si interrompe infatti il servizio dell'Opera Padre Pio, un servizio preziosissimo per dare un piatto da mangiare a chi ne ha bisogno, cibo per tutti. Si stimano 26.000 pasti preparati nel 2015, 26.000 sono tantissimi. Tra i fruitori ci sono anche tanti fanesi. E molto frequentato è anche il centro che distribuisce gli abiti usati. Sotto, a centro pagina, anche qui la protesta del Battisti, con i ragazzi che hanno sfilato ieri numerosissimi in centro storico. Poi l'altra pagina invece, il PD ritrova l'orgoglio. Marchegiani elenca con soddisfazione i risultati elettorali e amministrativi. All'inizio del 2016 verrà convocato il congresso, dice poi il segretario, il congresso comunale, per l'elezione appunto del suo successore. Siamo in guerra, allarme per l'Islam. Magdi Cristiano Allam è tornato a Fano. Ieri sera era nella sala del suffragio e ha parlato del suo nuovo libro. Anche qui poi la notizia dell'installazione della centralina a Bellocchi di Fano. Andiamo a Mandolfo invece, dove si parla di sanità. L'ex ospedale Bartolini, lo vedete nella fotografia, simbolo di promesse fallaci. Il Comitato per la Salute Pubblica pretende da Ceriscioli l'attivazione della RSA. I lavori di ristrutturazione sono finiti da oltre due anni. Quello di Mondolfo nel 1978 fu il primo ospedale chiuso. Sotto invece, problemi come al solito con la viabilità a Barchi, qui la strada franata, la provinciale franata. Il degrado avanza senza che vi si ponga rimedio. Punti critici a Barchi, Sorbolongo e Sant'Ippolito. Parliamo della strada mondaviese, percorso ad ostacoli tra cantieri e frane. La pagina di Urbino invece, rimuovete l'albero, in sostanza l'installazione, l'ordine arriva dalla soprintendenza, la giunta di Gambini è in affanno, parliamo della giunta di Urbino. Il PD va all'attacco, l'addio di Sgarbi crea una grande incognita politica. I pentastellati, ovvero i 5 stelle, chiedono al sindaco di pagare i lavori. Sotto invece, da Fossombrone, Brunori resta alla guida dell'ospis. Il vice sindaco informa che è rientrata alla richiesta di un trasferimento. Dunque il dottor Carlo Alberto Brunori, sottolinea una nota del vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, resta alla guida dell'ospis dopo che lo stesso si era detto intenzionato a trasferirsi per difficoltà organizzative interne all'ospedale. difficoltà tali che lo avrebbero distolto dal suo lavoro. L'ultima pagina, anzi la penultima, è quella di Pesaro. Stop agli appalti al massimo ribasso. Firmato un protocollo tra comune, sindacati, imprese e cooperative, conta dunque l'offerta vantaggiosa e non più il massimo ribasso. L'obiettivo è combattere la concorrenza sleale e le infiltrazioni mafiose a tutela delle ditte locali. Insomma, come dire, meglio tardi che mai. Non ci voleva tanto ad arrivarci ma in Italia a volte funziona così. Bisogna passarci sopra, sbatterci il muso e poi si capisce e si corre ai ripari. Cibo e petardi invece da Senigallia. Natale blindato, controlli e sequestri contro prodotti senza etichette e botti. E sotto l'albero c'è il caro Tasi, la tassa. Chiudiamo con il resto del Carlino. Eccole qua le fotografie del risultato del piromane perché si parla di un uomo incappucciato che ha dato fuoco l'altra notte ad alcuni motorini, alcuni scooter davanti all'autoscuola Bassani. Erano le 22.20 circa. In breve tempo naturalmente il fumo è entrato in ogni appartamento soprastante. Il titolare dice io non so spiegarmi perché ce l'abbiano con me. Però fatto sta che un piromane ha dato alle fiamme quattro moto parcheggiate. Il fumo ha annerito parte del condominio. Questo è successo, come dicevamo l'altra sera, a Pesaro. L'autoscuola è l'autoscuola Bassani, il largo Ascoli Piceno. Ad aver appiccato il fuoco nell'androne poteva avere effetti nefasti. E sotto vedete il titolare dell'autoscuola, Alfredo Bassani. Abbiamo pagina sempre sul resto del carlino, la pagina di Fano. Natale, lo shopping va, ma non ci sono più i mariti di una volta. La voce dei commercianti del centro che dicono appunto si vendono molte collane in giro, c'è molto passeggio, ma secondo me manca un po' di spirito natalizio. Per esempio dice Claudio Pacifici, oppure la titolare di una libreria, il libro è una garanzia, ma è la vigilia, il giorno fatale. Vendiamo molti gialli e anche il libro di Vespa, a sorpresa. Dunque, bilancio di fine anno, invece il PD annuncia i cantieri in partenza dopo lo sblocco dei fondi, investimenti per 100 milioni di euro in due anni. Battisti, anche qui foto grande, con articolo Battisti vinta la battaglia per l'autonomia, decisione rinviata di un anno, l'annuncio degli studenti durante la manifestazione. Poi, niente sezione invece, sempre per quanto riguarda la scuola, il mondo della scuola, niente sezione di staccata dell'agrario Cecchi, l'ira del sindaco di Fano Seri, sembra la scelta di un extraterrestre, dice lui, malumori dopo l'indicazione dell'assessore regionale Bravi. La palla a Tagliolini, il presidente della provincia, la regione non si opporrà se la provincia individuerà sedi fuori dal comune. A Bellocchi, anche qui, si monitora l'aria con la nuova centralina. Come abbiamo visto, Croce Verde invece, sempre dalla pagina di Fano del resto del Carrino, Croce Verde, Natale di Stenti, ci resta solo l'umiliazione, tre mesi senza stipendio e nessuna certezza per il futuro. C'è tutta l'amarezza e la disperazione. Sarà un Natale di Stenti per molti dipendenti della Croce Verde di Fano con quattro mensilità di stipendio in arretrato e i timori per il futuro. Poi, uno stalker, uno stalker fanese, uno che non si rassegnava alla... probabilmente voleva continuare a stare con la sua ex, coltelli a serramanico e spade giapponesi. La polizia disarma lo stalker. Perquisizione in casa, dopo la denuncia di una anconetana minacciata di morte dall'operaio. È stato denunciato un operaio fanese di 36 anni, lei, una coetanea di Ancona, non lo voleva più, ma dal suo punto di vista era inaccettabile e dunque ha continuato a perseguitarla. Villa Terni, siamo a Marotta, Villa Terni, variante sotto accusa ambientalisti contro il progetto di costruire un maxi resort a 5 stelle, mentre c'è questa iniziativa sotto, di cui parla il resto del carino questa mattina, Catechismo 2.0, Renzi, che non è il premier, ma è Emanuele Renzi, il nostro cittadino, che lancia, qui scrive il titolo, l'evangelizzazione digitale. In realtà il regista sta andando a caccia di fondi, di soldi, neanche tanti poi alla fine, per realizzare cartoni animati sui temi della fede, cartoni animati cattolici. Se avete tempo, voglia, andate a cercarvi il villaggio di Emmaus su internet e date un'occhiata a questo progetto. Io l'ho fatto l'altro giorno, devo dire che è un progetto interessante, quindi chi ha qualche soldino e vuole aiutare appunto questo Emanuele Renzi a realizzare questo cartone animato di ispirazione cattolica, ecco, dia un'occhiata. La VL per Federico invece, stasera al Palazzetto dello Sport pesarese, raccolta di fondi per il bimbo malato, ogni ciclo, abbiamo già visto, costa 30.000 euro. Non abbiamo altro da aggiungere, vi ricordo che la mattina di Natale, come di consueto, ci ritroveremo in diretta, quest'anno avremo delle novità che vi invito a seguire, quindi dalle 9.30 alle 10.30 del 25, quindi dopo domani, ci ritroveremo in diretta su Farno TV per farci gli auguri, appunto, come ho già detto, con qualche novità. Quindi seguiteci nella mattinata di Natale. Io mi fermo qui, grazie per aver seguito la Rassegna Stampa, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.